Oggi siamo particolarmente contenti penso, io e la collega Scoccia con cui ho condiviso e abbiamo condiviso questo progetto di legge e dobbiamo ringraziare sicuramente tutti i colleghi consiglieri ma anche la struttura della regione Abruzzo, i nostri consulenti e collaboratori perché abbiamo posto l'attenzione su una legge importante, su quella che è poi la sofferenza che vivono tante persone, in modo particolare le donne e quindi è una presa di coscienza del Consiglio regionale, quindi dell'intera regione Abruzzo, su questa grave problematica. Trovare delle risorse economiche che in questo momento, nella discussione, sono state aumentate da 300.000 a 500.000 euro può essere un piccolo aiuto ma questo è un segnale importante che la politica, la politica vera, la politica che mette al centro dell'attenzione i bisogni e le necessità della gente, ecco la politica oggi penso che abbia fatto un passo importante e positivo. È normale che ringraziamo anche tutti gli operatori che vivono a contatto con i pazienti, con i nostri malati e tutte le associazioni che veramente con grande spirito di sacrificio collaborano e stanno vicino effettivamente ai pazienti oncologici. Io mi auguro che nel prossimo futuro ci possano essere altre iniziative che vanno a riguardare altri tipi di malattie perché appunto la bella politica è quella di mettere al centro la persona e con tutte le sue qualità e i suoi talenti. Io ripeto, ringrazio ancora tutti i colleghi consiglieri e mi auguro che con la scoccia possiamo continuare a progettare delle leggi che veramente vanno verso il bene dei nostri concittadini abruzzesi.